Hallo meine deutschen Freunde, ich bin Giuliano, es tut mir leid, dass ich kein so gutes Deutsch spreche. Qui stiamo vivendo una situazione veramente molto delicata e difficile e praticamente abbiamo dovuto interrompere le nostre relazioni sociali, questo ci è stato chiesto, di frequentare il meno possibile le persone. Per noi emiliani in particolare le relazioni sono tutto, il poter stringere una mano, dare una pacca sulla spalla, abbracciare una persona, parlare, per noi è fondamentale, noi viviamo per questo, è nel nostro DNA.